ciao sono rosario de vincenzo autore del libro usura bancaria e fondatore di hgm hgm si occupa da anni di anomalie nei contratti finanziari e di consulenza di marketing strategico e di tecnologia in questo video voglio presentarti le tre cose più importanti che bisogna fare per fare un controllo dei tassi un controllo dei tassi nei contratti applicati prima come fare il controllo da soli fare una pre verifica gratuita dei conti degli affidamenti dei mutui divisi fare in modo concreto due una volta fatta questa verifica verifico prendo consapevolezza se sono una situazione di difficoltà e quindi di difesa oppure se voglio intraprendere un'azione nuova quindi acquisisco quella consapevolezza che mi dà la forza di ok agiamo nei confronti dell'istituto finanziario e terzo poi qual è la strategia che devo applicare queste tre attività importantissime sono gratuite per tutti pensate che si stimano 20 milioni di contratti di finanziamento in superamento dei tassi soldi e sono oltre il 35 per cento di imprese che oggi vivono la sofferenza e il disagio col sistema creditizio e dall'altra parte abbiamo le banche che invece sono molto favorevoli molto molto disponibili a transiggere e a raggiungere degli accordi di bolero componimento qual è la differenza la differenza è che dobbiamo argomentare bene fare una verifica corretta in modo oggettivo con calcoli e formule di matematica finanziaria ti aspetto iscriviti subito al prossimo webinar ciao